Ce ne saranno qui, qua in fondo, sicuramente qua Sì, sì, sì Questo trial of the sanctuary probabilmente ce ne saranno anche qui qua Andiamo Andiamo a fare il rituale della luna Ah, sì, questo posto è invitante Sì, infatti dice, non era come quando eravamo, ragazzi Dice sì, perché sono i mostri O il pervasivo miasma di male che c'è in questo posto Entrambi Era un posto sicuro, un po' pauroso, ma sicuro Dice però c'è qualcos'altro, c'è una tensione nell'aria E non era qui quando eravamo No, something new Dice qualcosa che mi sta aspettando qui, lo sento Dice tuo padre aveva ragione, sapeva che saremmo venuti qua Sì, ok, dov'è la cristallite? Dentro il tempio, andiamo C'è un scheletro di quelli possenti Ok, dicevo sì, quindi oltre Si trova oltre quegli scheletri, corretto Quindi si stava solamente contro la salute Ha solo un check Domanda check, come quella di prima Ma c'è, sì, sì, ma Ha solo un check, ragazzi Allora Ma questa fisi armonica Ah, ma tu proprio evochi Stirling Letteralmente E costa 20 Costa 20 cose Stirling Ma da lei è useless Come se era una maga che tira i pugni Fantastico Allora vabbè Dobbiamo scortare nuova Completa la missione senza knockout Aprire tutte e tre le ceste C'abbiamo pure la roba qui E collect il faso di Steelface Beh, intanto Dobbiamo andare a scavare Sto c'è di rinforz Poi Poi, ma andiamo avanti lui Si può muovere veramente di poco Perché ci hanno messo l'acqua Sti bastardi E' qua, giusto Fin Fatte periaccia, ragazzi Dobbiamo andare tipo 2-2 Intanto ammazziamo questi qua Che qua c'è il Dark Knight Deve essere pericoloso Adesso che lo sbatto Non mi ha mai scambiato E poi Non mi ha mai fatto il Dark Knight Ah, ma ditta me Anche perché questo Mi viene Ehm Ehm Prigoché che faceva Fino a 4 Target Poi fa sempre danno diminuito Infatti fa un danno No, danno aumentato Fa un danno al primo Due danni al secondo Tre danni al terzo E quattro all'ultimo target Potrei evocare i Babbenielli Che loro pensano a questo Andiamo con i Babbenielli Poi dopo scambio il Mago Con Una cosa Ma però non ce la fanno mica Uccidere Mi tocca usare questo Che forza Non riuscivano a raggiungersi Abbastanza Però lui dove è Almeno qua Adesso lo mettiamo qua Tanto almeno Una coppia Guarda l'ultimo Sbustato 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 Uccidere qualcosa Prima che evoli Perché devono sempre arrivare Altri nemici Allora però questo Gli devo levare Quel Quel due Non lo riusciamo a uccidere Ma vabbè Tanto comunque Lui para ancora Colpi Tranquillamente Lei potrà Interagire Con le cose Adesso Lei riusciamo a renderla Uccidere Un'altra cosa Un'altra cosa Una bella sassata Col maghetto Di pochettino Il maghetto Di pochettino Qua dovete Il modo di Di sciogliere Di sciogliere Sto Un po' Sto Un po' Di sciogliere Una pizza Sulla panza Allora Vediamo un po' Dark Knight Sciogliere Che faccio Che se faccio Muovere lui Qua non fa una mazza Guarda che Lo butta Il turno In realtà Lui mi sa Che lo butta Lo stesso Allora Di sciogliere Io lo devo far avvicinare Da sta guarda Che muo Arrivano i Rainforest No In realtà No Potrei tranquillare Su Deci Prendiamo sti Babbenielli Qua Le la mettiamo Qui così Tira dei bei Di pugnettarsi Ai nemici Sposti Di qua Poco da qua C'è poco da qua Questa volta Al massimo Tirava una freccettina Ecco Questa è la Rotta le regale Speriamo Non casti nulla Benissimo Che tre scheletrini Non è Che c'è Che c'è Vai Un shot Un shot Non ci arrivano neanche Non ci arrivano neanche Schifo Che c'è Che c'è Che è successo Che c'hanno Che c'hanno tre di vita Questi Avrei potuto tirare la dinamite Ma poi c'era Che c'è Non c'è la doppiazza Ci piace Questo segno di turno va bene Ma sì Va bene La doppiazza Che c'è Che c'è Un po' Mi sentiamo qua Oh Che c'è Che c'è Un po' Che c'è Un po' Che c'è Un po' Mi devi fare un bel numero Andare qua Focus Rega sassata Vieni Intanto questi ragazzi Mi rispondono Queste cose Servono proprio una sega di molla Incredibile Mannaggia Cosa è che c'è? No ci dobbiamo specialmente Dare a parte destra No vabbè ma tutte e due di nuovo Ma scus Ma excuse me Quindi stanno per arrivare 4 Mega male Allora finiamo un'altra abbondata No però quello muore di cosa? C'è un po' così Un po' di nuovo Tutto qua con quale vuoi farlo? questi umili aggiuntivi sono proprio inutilissimi mentre rigenerazione e lui che può fare può evocare il tipo però onestamente io non so è simpatica questa cosa poi è una pippa in mondo al tipo fosse forte evocarlo non ti frega al 20% dei guadagni spruzzando ah ma a fine turno adesso muoio non ci vuole lasciare questo ragazzo ah sono pure scheletri forticini facciamo così boom 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 via perché l'ha shottati qua? vabbè poco ma dobbiamo prendere le ultime cassettine a più vabbè guarda un mostro adesso lei prende questa dynamite e noi ci apriamo verso le scale fai la tua mancia sicuro adesso è il momento di andarci via 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 e via via Ah, quindi lo scheleton boss vi sa quando greva scoppia tutti quanti gli scheletri che stanno vicino a lui. Sì, finiturno, anyway. Airshock. Bam. I don't want to shoot that one, I don't want to stay here. Yes. 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 E l'ultima ma non meno importante è... Ragazzi, guarda tutto quanto preciso. Ok, shop items. Tocchio level appino, bene bene. Oh no, il cristallo. E lui pensava fosse una roba gigante, tipo un monolito o qualcosa di enorme. Vabbè, questo era il coso cristallino che ci ha fatto vedere. Mi ha detto che è un essere vivente. A me sembra semplicemente un pezzo di cristallo, è vivo. Secondo lo zio Galway ha detto, quello che sa farebbe girare la testa a noi mortali solo all'idea. Sa talmente tanto che ci scoppia, ci blow a la mind. Che sì, sembra una cosa che avrebbe detto mio padre. E gli ho creduto. C'era qualcosa, una sensazione. Ho sentito la presenza della cristallite. Le bottigliette d'acqua d'estate decollano proprio in 5 secondi. E spari 9000... 9000 di fila. Siete infiniti allo sto tanto. Well, it was a beautiful thing for such a desert place. Una cosa così bella in un posto così desolato. E vabbè, comunque è un polverato mentato. Cosa pensi che sia accaduto qui? Sembra come se sia accaduto qualche genere di cataclisma. Magari un'esplosione. Sarò onesto. Non mi sembra una situazione bella questa ragazzo gra. Lo so. Potrebbe esserci qualsiasi cosa qui intorno. Sì, sbrighiamoci. Siamo pronti, Nuala? Pronti? Mi sembra di essere nata per questo. Mi sento come se io sia nata per questo. Cerchiamo tuo padre. La sorceress, eccola là. Ah, cerchiamo tuo padre. Certo. Sei proprio ridicola. Punto schermatico. Punto schermatico. Punto schermatico. La sorceress. You. Sei tu. Che la resta dietro a tutto il tuo. Dov'è mio padre? Ah, non ti preoccupare, piccola ragazza. Il mio padre è perfettamente... Ah, è nei mani assolutamente capaci. Rilascialo. Non ti distruggerò. Comunque non mi ho il nero elettrico. Tu? Mi dispiace. Io... Poi si taglia proprio già, va più. Ah, quella era buona. Quella era buona. Ah, non... Devo ammettere che non rido molto spesso. Ah, sono niente che in quel tono è sempre lo stesso. Ah, ti pensi di essere il primo Leonhard che mi ha minacciato? Di cosa stai parlando? Non impari mai, vero? Warden? Sei... Destinato a fallire ogni volta. Ehm... Ehm... Now that how smarting you are, Roland, it takes a lot. Ehm... Ehm... Immagino che ormai... Sei diventato una... Nuisance. Che cazzarola voleva dire? Un fastidio, ok. Ah, quindi sei riuscito a diventare un fastidio. Non che... Ehm... Fregare Roland sia una cosa complicata. Sarebbe metà, no? Ehm... Credit... Where credits do. In ogni caso diamo a Cesare quel che è di Cesare. Abbastanza... Ghiacchiere. Ehm... Facciamo quello per cui siamo venuti qui. Ehm... Sì, no... Non... Oigo, tipo... Signori, io però non è che me la sento proprio... Ci prendetela adesso. Ma... Ah, quindi la scritta viola apparente sono più persone. La Sorceress c'è un tipo un disturbo... Non è la doppia personalità, qualcosa di genere. Potremmo dirle Sorceress, però... Nel senso... Vedi? Piadeva stick e falla finita, no? Be patient. Capo paziente. No, non lo voglio aspettare. Niente più parole. Siamo così vicini. Dovete scusarla. C'è un pochino di... Barriera contestuale. Non si è mai abituata alla situazione. Ma immagino che abbia ragione. Porre fine a tutto questo. Qualsiasi cosa abbiate intenzione di fare qui. Ehm... Credo che un piccolo tumore per quattro possa solo migliorare le cose. Ehm... Fatemi la cortesia di morire facendo messa in maniera brutta, insomma. In maniera incasinata. Tipo sbappolati. C'è pure gli denti da vampiro. Aveva detto un tumore per quattro. No, mille tumore. Vabbè, c'è tutto completo il rituale. Noi terremolettature lontane. Allora, devo distruggere gli orbi dell'oscurità. Questo sparto subito sono più sacco. Ho fatto una cazzata. Restart. Mi deve altro perché dovevo fare questo. Oltre a me lo shot out. BAM! Che casetta, bitch boy. Ce ne stanno altri vari. Allora, colpirò quello da lì. Sì. Facciamo un po' che... BAM! 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 E lei va a dare un panico se lo possiamo uccidere. Dice di ucciderne quattro. Ah, il quarto sta qua giù. Dice di ucciderio. Dice di ucciderio. Ah, questi però hanno monnezza ogni turno. Ma le face out li colpire? Lo posso colpire? No. Non lo posso colpire. Maledissimo. Ciondano. Maledissimo. 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 BAM! Focus. Bubone. E lei Tira un frecciatino Un altro uomo Scherbare non fa mai Lei però non lo uccide così Abbiamo uccisi Già tre Questa data E avvengisi Venti chisi Venti chisi Venti chiamiamo A parte di un trap E io ho già visto C'è una festa E io posso attaccare Sì Vediamo Ok C'è una festa Mi sa dire che Non posso Stare a fare Difesa Sì Ah Credo che sia Proprio quello La sola Ma non è Non è un problema Perché con lui Rishottiamo Possiamo fare poco Facing Facing Intanto mi sa Se arrivo lì Con l'esperma Ancora Devo scambiare Ah non posso No Maledizione Non posso Troppo colpirlo Facciamo un esempio E mettiamo Sto turno Quindi Con lui Devo per forza Con lei Devo colpire Questo Scusa Poi me lo colpiva Perché Non lo riesce Questa Lo chiamo I pifferelli Allora Proviamo un po' I pifferelli Reloce Reloce Poi tu Scusa Scusa Non posso Scusa Scusa Lui non ha Di meglio Questo Mi fa quel danno Basta Onestamente Sprecare Il paura Attacca Scusa 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 Adesso Ostici Sti cosi Che fanno Space Out Maledetti Vittori In two turns E noi Entro due turni Dobbiamo Devastare Quella roba Lì Lo facciamo Facile 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 MIG Di fuoco Quello Vuol Face Out Guarda Che Bastile Guarda 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 Yes, l'abbiamo fatta, victory, questa era proprio un bacillino Una gemma e una gemma Ah, vedi che poi ti dava con le missioni aggiuntive Di dare gemme più 4 gemme Questa è veramente tanta roba Ah, le incantazioni finali Dice, ma che è successo con la Sorcerer? Perché stava discutendo con se stessa? Non credo che sia da sola nella sua testa E non credo che ci possa combattere direttamente Vabbè, ne parleremo dopo Dobbiamo farcela, pronti, pronti, pronti Io sono il capo della polizia I mean, define, ready, I don't, eh, ready Infatti, per favore, definite la parola pronti Sì, vabbè, vabbè, pronti Fatelo Io sono il capo della polizia Mi sa che l'ho raccontato di Enzo, di Amato Che capitava a Ostria Barbone, che poi è morto Non era lui che fu che gli avevano fatto dei video pure su YouTube Mi fa ammazzà da ridere Koko Ada Oko Watashi Adare Diventata giapponese Cos'è successo? Ikusa Adokoda No, la cosa sta succedendo Non capisco quello che dici Gomen nasai Sono io, Oiko Mi senti? Ai Oiko san Wow, questa è pazzia Non capisco quello che dici Ma penso che lei ci capisca Forse, forse le ha preso un ictus O qualcosa del genere Non lo so Oigo Ah, io conosco mia cugina Qualsiasi cosa sia Non credo che sia lei Non sei nuala Quindi chi sei? Sei Mochizuki E va bene Mochizuki Hachi Memashite Watashi Mochizuki Desu Mochizuki Desu No? Tipo una roba del genere Scusate, raga Ma non sono un maledetto Weavu Quindi non so La pronuncia delle cose in giapponese Mochizuki Is that your name? Hai? Doruido Doruido Sutun Doruido Sutun Druidstone Doruido Sutun Abunai Wakari Masuka Doruido Sutun Watomoni Morimashou Ma tra l'altro Credo che sia fatto In giapponese Fatto bene Poi è chiaro Questo è scritto Sorry Mochizuki We don't understand What you're saying Non capiamo quello che dici Perché parli giapponese E quindi disegna le cose per terra Cosa sta facendo? Sta disegnando nella polvere Dice mio padre Sembra Sembra la sua maschera C'è qualcosa in più Lamp Che cazzarola voleva dire? In realtà mi pare che ci abbia più significati Ti faccio vedere Un po' Un lamp Un grumo C'è Più di un grumo E' la druidstone La pietra La pietra dei druidi La riconosco La pietra dei druidi Sei sicura? Non so come I know Ma That's What she's Stringendo Dice Non so come faccio A saperlo Ma è questo Quello che sta disegnando Credo che stia dicendo Che entrambi Tuo padre E la pietra dei druidi Sono in pericolo E se troviamo una Troviamo l'altro Hai Ha capito L'ha detto E' vera Esiste ancora La pietra dei druidi Penso di si Perché Vabbè Mio padre mi aveva raccontato storie Che non Non credevo che fossero Vere Che genere di storie Quando parlavamo di mamma Non è importante Dovremmo tornare al santuario I druidi Ce l'avrebbero dovuto dire Torniamo al santuario Sono contento di vedervi Tutti quanti Avete trovato la cristallite Sì Avevo buone notizie E cattive notizie E' successo qualcosa di strano All'annuala Quando siamo andati Della cristallite Lei non è più qui C'è qualcuno Che si chiama Mochizuki Al posto suo Quella è Non più Mia mucina Se n'è andata Tutto quel macello Per cercare di salvarle Adesso succede questo Tragico C'è un po' di risultato C'è un po' di risultato E' un po' di risultato Del rituale Del rituale della luna Non è proprio Il mio tipo di magia Però Ma si dice Sei a no My way around A taumaturgic Qu'è un po' di risultato Diciamo che Diciamo che Io sappia Un paio di cosette Sulla magia Un paio di robette Taumaturgiche E quindi Quando Facevo il Che arte Che era la grande Libreria Al monastero Della pluralità Ho fatto un po' di lettura Un po' di lettura estesa Letteralmente Non Non Riuscireste neanche A pensare Alla dimensione Di alcuni toni Un gazzilione Di libri Giganteschi Tutti coperti Da ragnatele E cacate Di dopo E pensate Che alcuni Di loro Abbiano degli indici Ovviamente No La prima regola Dei Tomi Magici Antichi E per renderli Impenetrati Impenetrabili Come se tu Sì Magari potresti Appunto Arrivare al punto Oico Sì Ah Ok Ok Allora Praticamente Prima che fallisse Il monastero I monaci Studiavano I segreti Del mondo Sta ricominciando Dice Il monastero È stato abbandonato Cinque Cinquant'anni fa Esattamente Quanti anni hai Non distrarmi Sto cercando Di Di spiegarmi Una cosa Oico C'ha tipo 3000 Il più saggio Degli anziani Aveva studiato Il lore La lore Non saprei però A me piace dire Il lore Suonamente La lore Non si può sentire E sono giunti Alla conclusione Che il mondo In cui viviamo Non è l'unico Se pensi Che il nostro mondo Al nostro mondo Con un singolo filo C'è un sacco C'è un sacco di Appunto Sicuramente Là fuori C'è un sacco Di tappezzeria Non è possibile Che c'è solo Sto filo Buttato lì Tutto spazio intorno Tutto tappezzeria E altri tappezzeria Saremo un filo Di un tappeto Avevano un sacco Di teorie magiche Che andavano In direzione Di quest'idea E molte Di queste Teorie Si avvicinano Proprio All'idea Del rituale Della luna Adesso Penso Che Spirito Di Mochizuki Sia Venga Da un altro Filo In qualche Modo La cristallite Ha trapiantato Ha Ha Trapiantata Nel corpo Di Nuala Non so Dirvi Perché Magari L'arcidruido Lo potrebbe Sapere E mia Cugina Questa È successo A lei Si trova Dove Dove Sta Mochizuki Adesso Non ne ho Idea Perdonatemi E non so Come Se questo Sia Permanente O temporaneo Vabbè Insomma Mochizuki Chiamiamola Mochi Che buoni Mochi Qua tra l'altro Se non l'avete mai mangiato Andate a mangiare I mochi Giapponesi Buoni Come il pane O dentro La nutella In realtà Quelli fatti bene Dovrebbero avere Quella pasta Di Di fagioli Tipica Giapponesi Fagiolini Dolci Che stanno Pure dentro Ai Ai Dorayaki Che sono Quelle cose Che si mangia Doraemon Mochi ci ha detto Che tutto questo Coinvolge la Pietra Dei druidi La pietra Della druidstone Il minto Della druidstone E parte Dell'addestramento Di ogni druida Viene detto Che Mantene Neuron By the gods When they first Tapped And they lost Faera Ok Ovviamente Pare che fosse Il seme Il primo seme Che hanno messo Gli dèi O meglio Credo In questo caso Che sia proprio Il singolo seme Che gli dèi Hanno piantato Quando hanno messo piede su E lo sfera Che è Il nostro Ponto Da quel seme Il primo Dei grandi Delle grandi Querce È cicciato Dal terreno E poi ha prodotto Altre quercettine E col tempo L'area è diventata La foresta Dei menhir La pietra del druido La druidstone Chiamiamola druidstone Facciamo prima È l'origine Di tutta la vita A decodari Mo ci ha detto Che la druidstone È in pericolo Se Dovesse capitare Qualsiasi cosa Alla druidstone Le conseguenze Sarebbero Catastrofiche Quanto parlate Rega oggi Oh porca miseria Ma in ogni caso Parlano all'infinito Stiamo L'ultimo livello Quando l'abbiamo fatto Due anni fa Not much We don't even know Where the druidstone Infatti Non possiamo farci molto Perché non sappiamo Neanche dove si trovi La druidstone Moji Avasan Voglio credere Che tu sia qui Per una ragione Che mio padre Sapeva qualcosa Che Noi non sapevamo E Si aspettava Ha visto già Questo momento Che tu non abbia Fatto nulla Per fare male A mio ucino Quindi non Deludermi Adesso cosa facciamo Adesso dobbiamo cercare Di capire dove si trova La druidstone Ovviamente E Facciamo Nuova mail Trial of fire In Shargo Highlands Ci abbiamo Mille level up Ho fatto Fai Oh Oh Kill all wounds Full health Questo ti dà Tutta la vita Buono Però a me piace Eh Sti due qua Mi piacciono parecchio Defender Secondo me è figo Nenzo Ninzo Ninzo Prendiamoci questo Dai Proviamo Ci mettiamo Sti due punticini Vediamo lei Ah Ah Freeze Figo però Freeze Boh Non lo so Cioè molto meglio danni Diritto per dritto Può essere utile come CC Su un target Che è veramente Trosto da uccidere Così Prendiamo Che il CC Ci può fare qua Lei cura livellato Cool Questa avvicina un target Shuriken Strike Due danni A tre target Separati Alla C'ha Questa ancora Non ha cambiato La traduzione Del tipo Che cura 1HP Recovers 1HP No Revive 1T C'ha il knockback Lei Uno shinobi Brust knuckles Due danni Fa cagarissimo Questa Vagare Lei Vediamo cosa Troviamo 4 danni Fa Questo Questo E' carino Però Non dà HP Eh Bella Questa Che c'ha Focus Light Però Quello Del fire Che fa Più danni Secondo me Questo costa 200 Preso Preso Proprio Instant E poi Gli mettiamo La cosa Che può usare Le armi Sì Con questo Facciamo Milioni Di danni Con Sto Cosa Alla Gli leghiamo Sta Bonnezza Vediamo L'accetta E a sto Punto Le do Puglies Power Attack Con Kill Non so Un Use Di Shuriken Tanto Lui Focus Ormai Non posso Dargli Focus Da nessun Altro Raise Dead Perché Non c'è Un Raise Dead Nessun Vai A posto Bene 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 Bene